Ciao ragazzi! Benvenuti a Tempo Scaduto! Un format targato Cruise Lab da quest'ufficio speciale che collega il mondo terrestre con quello magico vivremo fantastiche avventure insieme ad Angela, Antonio e Clock! Ragazzi, ma cos'è questa? È una lettera! Sì, c'è scritto Per Clock! Oh, beh, allora dovrei leggerla! Aspetta Clock, prima lanciamo la nostra Sigla! Clack! Prima di leggere la lettera dobbiamo ricordare una cosa molto importante che è il nostro amici a casa Ricordatevi di seguirci su tutti i nostri canali social Instagram e Facebook e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube Tempo Scaduto e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nostri prossimi video Eh sì, e solo così potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità che ci riguardano Esatto! Dai Clock, leggi la lettera! Oh, ragazzi, è dal direttore della stazione del tempo! Dal direttore in persona? Ascoltiamo cosa dice! Sì, allora Caro Clock, il Natale è ormai alle porte Grande fermento c'è alla stazione del tempo per recapitare le ultime lettere a Babbo Natale Come ogni anno, il 26 di dicembre presso il Gran Salone del Castagneto ci sarà l'importantissimo Ballo di Natale che chiuderà la stagione natalizia Sarei onorato di averti come ospite Non mancare il direttore Post Scriptum Porta con te chi desideri invitare Wow, posso? Bellissimo Io amo il Gran Ballo Anche io Clock, che c'è? Non ami il Gran Ballo? Le luci scintillanti Gli abiti meravigliosi Sicuramente ci sarà anche tanta roba da mangiare Clock, cos'hai? Che c'è? Che c'è? Ah, io lo so Non ha un vestito da mettere Non ti piace la musica romantica? Non fa ballare? No, è che non ho un bel ricordo dei balli, ecco Oh, e come mai? Oh, dovete sapere ragazzi che ogni volta che vengo invitato a un ballo nessuno vuole venire con me Oh, che storia triste Sì, è davvero una brutta storia Ma io ho un'idea Posso mettervi come vuoi? Oh, se vuoi Allora Clock Gira la testa a destra e dimmi cosa vedi Non vedo nulla Va bene Allora gira la testa a sinistra e dimmi cosa vedi Non vedo nulla Va bene Allora gira la testa a destra e a sinistra contemporaneamente E dimmi cosa vedi Antonio, basta! Vuoi parlare? Clock, ma a destra e a sinistra hai me e Angela E questo significa che al gran ballo noi verremo con te Ma Antonio lo fareste davvero? Oh, che bello Aspettate un attimo Oh, grazie, grazie, grazie Ma sono felicissimo Un attimo Non abbiamo i vestiti adatti da metterci E che fa Ma quello non c'è problema Per quello non c'è problema Mi faccio recapitare Io ho dei favolosi abiti Aspettate Userò subito il mio time phone Ah beh, allora sì E dimmi Clock, ci sarà una grande scalinata? Sì, sì, gigantesca Oh, non vedo l'ora di scenderla con il mio meraviglioso vestito Clock, mi chiedevo Ma ci sono anche i lavoratori della stazione del tempo? Oh, sì, tantissimi Ci sarà tantissima gente da conoscere Oh, fatto! Ho inviato il messaggio a Gino Fra pochissimo sarà qui con i nostri nuovi vestiti Ma Clock, una domanda Come faremo per le taglie? Oh, vedrai, vedrai Eccolo, eccolo, è arrivato Gino Oh, ciao Gino È arrivato Gino Beh, ciao Non penso che avrà fatto in tempo Abbiamo soltanto la lettera della rubrica E questo cofanetto Vediamo No, ma non ti preoccupare Angela Vediamo prima la rubrica però Tempo scaduto Ciao a tutti amici E benvenuti in un nuovo episodio dei Piccoli chimici in versione natalizia Oggi insieme a voi realizzeremo le bolle di sattone Ma non solo il liquido, anche gli strumenti Andiamo subito a vedere cosa ci occorre Per preparare il liquido nelle bolle ci occorre Una parte di detersivo verde Concentratissimo Tre parti d'acqua E mezza bustina di zucchero E per lo strumento affiato ci occorre Una bottiglietta di plastica Dell'ovatta Degli elastici E un po' di tulle Iniziamo a preparare il nostro liquido Prendiamo il detersivo dei piatti E lo misuriamo Adesso lo vestiamo nella ciotola Poi prendiamo un altro bicchiere E misuriamo le tre parti d'acqua E la cio? Vai Adesso ci mettiamo Mezza bustina di zucchero Adesso Cri Facciamo riposare il nostro composto Per dieci minuti Intanto Prepariamo Il nostro strumento affiato Prendiamo Una bottiglia di plastica E tagliamo Ok Prendiamo Prendiamo Bravissimo L'apriamo Così Bravissimo No, no, non spingere Prendiamo il tulle Mamma, poi io metto gli elastici Tu mantieni Prendiamo gli elastici E li blocchiamo In modo tale che il tulle Non va mai fuori Ok Adesso prendiamo il nostro composto E immergiamo il nostro strumento affiato Cri Soffia Donne Wow Schiuma ebola Mamma, guarda Wow Quante canici Ok Soffia qui Per oggi è tutto Noi continuiamo a divertirci Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao amici Ciao amici Allora Clock Apro o non apro? Sì sì Antonio Apri questo locofanetto Dai Vediamo cosa c'è Angela Allora Wow Allora Oh sì questi due sono per te Angela Wow Che carini Ma Clock Non vorrei urtare la tua sensibilità ma Non sono un po' troppo piccoli Guarda 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 Antonio questi sono tuoi Sì Angela Ma come fai a dirlo? Non li hai nemmeno provati E beh Io vorrei tanto provarli ma Non saprei da dove infilarli Guarda Angela Il mio dito entra perfettamente Appunto Clotto Sono le bambole Guardate Ma testoni Ti ha anche questa bottiglietta Oh siete proprio dei testoni Non vanno indossati così Oh noi alla stazione del tempo Non abbiamo le taglie Anzi Prendiamo i vestiti Li avviciniamo al nostro corpo Utilizziamo questo attivatore Questa boccetta Antonio L'attivatore come lo slime Sì Certo E il vestito calzerà perfettamente al nostro corpo Quindi stai dicendo che Scelgo un vestito Sì Ad esempio Questo Questo celeste Sì Lo avvicino al corpo Ci spruzzo l'attivatore E dovrebbe succedere qualcosa? Sì Wow Sembro Sembro una principessa Angela Sembro una ragazza vera Eh? Che cosa vorresti dire? Oh Angela Sei bellissima Oh grazie Clock Ragazzi Voglio provarci anch'io Angela Passami l'attivatore Tieni Speriamo che non diventerò slime Allora Lo avvicino al corpo Lo spruzzo è Wow Wow Antonio Sembri un ragazzo vero Davvero? Sembro un ragazzo? Grazie Angela Grazie Angela Sai ultimamente mi sentivo un po' invecchiato Antonio Molto bello Ma sai c'è di meglio Sì? Aspetta che provo Sì Bello Provo questo blu? Sì sì Allora faccio come ha detto clock Lo avvicino Attivatore E Wow Antonio Stai benissimo Io penso che questo blu sia quello giusto Sì Angela Lo penso anch'io Sì Oh è tornato Gino Con la prossima rubrica Attenzione principessa Grazie Gino Ciao Gino grazie mille per i vestiti Ciao Allora Tempo scaduto Ciao ragazzi Io sono Valentina E questa è la rubrica Animando con i libri In questa rubrica viaggeremo all'interno dei fantastici libri Asbor Oggi vi presenterò Listen and Learn Andiamo a scoprire subito il suo contenuto Listen and Learn ti permette di imparare più di 120 paroline Ascoltando direttamente le pronunce madrelingua inglese Attiviamolo dal retro e siamo pronti per incominciare Al suo interno sulla sinistra troviamo il contenitore dove sono riposte tutte le schede E per ogni scheda ci sono 16 immagini suddivise per argomenti sia da una parte che dall'altra E dopo aver riposto la scheda nell'apposito alloggio Premendo Go ascoltiamo il titolo della scheda che abbiamo scelto In questo caso è mese di trasporto E per scoprire il loro nome in inglese non ci resterà che premerci sopra Con questo sistema semplicissimo imparare sarà un vero divertimento Per oggi è tutto ci vediamo al prossimo episodio per viaggiare ancora Ciao amici Ciao Clock Tempo scaduto Ciao Grazie Bene Ora vorrei provare questo giallo Molto bello Ha un qualcosa di familiare Sì sì penso proprio che faccia al caso mio Lo avvicino Ci spruzzo l'attivatore E Wow Ma è stupendo Angela guarda sono senza parole Penso proprio che sceglierò questo Oh sembri bello del cartone animato È vero Conosci la bella e la bestia Clock Certo Wow Sarà un ballo spaziale Angela vieni Sì sì Antonio dobbiamo fare Dobbiamo fare un po' di prove Perché io non ballo da molto tempo Sì Allora vai con la musica È una storia sai Vera Ho avvicinato Angela Ma che stai facendo? Sto ballando Sì ma non è il baro del polico questo Ma io Questo è un banzo So fare solo quello Dai ti insegno io Vieni Destra e sinistra E Uno Due Tre Quattro Fai un giro Dai ragazzi Basta così dai Venite qui Anche perché devo vestirmi Anch'io Devo provare il mio vestito Infatti Clock Proverete più tardi dai Infatti Clock Vedevo che nella scatola C'è ancora Un vestito E Un cappello Eh sì Antonio È il mio preferito Allora Ragazzi siete pronti? Sì Oh bene Allora Avvicino il vestito Prendo l'attivatore E Oh Oh sì Questo è il mio preferito Clock Ma stai benissimo Oh grazie Angelo E quel cappello? Oh quello È il simbolo Della mia famiglia Ogni famiglia Ha un cappello Che la rappresenti Oh no Il tempo a nostra disposizione È finito anche oggi Ma non preoccupatevi amici Perché torneremo prestissimo Con nuove avventure E mi raccomando Se volete rivedere Tutte le avventure Di tempo scaduto Sul nostro canale YouTube Trovate tutte le puntate Mi raccomando Seguiteci anche Sui nostri canali social Facebook E Instagram Perché? Beh Perché vi racconteremo Come sarà andato il ballo Ciao amici Ragazzi Avete visto che bella puntata? Sì? L'avete seguita tutta? Perfetto Allora seguite le istruzioni E partecipate Così al sorteggio Delle nostre magliette Commentando qui sotto al video Alla domanda che vi farà Antonio Bene ragazzi La domanda di oggi è A quale cartone animato Disney È ispirato il secondo vestito Che è indesco Angela? Rispondete in tanti In tantissimi Ciao 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 Ciao